Ha costretto per un lungo periodo la nipotina di appena 10 anni a rivolgergli attenzioni molto particolari che ben presto si sono trasformate in vere e proprie molestie e poi palpeggiamenti e violenze. Una vita vissuta di angosce per la bambina che con l'orco ci viveva insieme alla mamma, complice del padre padrone come stato definito in procura. Violenza sessuale aggravata, l'accusa con cui i carabinieri hanno arrestato il nonno, 69 anni, bracciante agricolo di Trani e la mamma della piccola, 30 anni, descritta dagli inquirenti come una donna succube del padre. Le indagini sono scattate grazie a una denuncia asporta dalla zia paterna della bambina che dopo la separazione coniugale dei genitori viveva stabilmente con la madre nell'abitazione dei nonni in una zona alla periferia di Trani. Con vari pretesti si era poi trasferita dalla nonna paterna. Al suo arrivo nella nuova casa la zia aveva notato come la nipote fosse spesso triste, frastornata e spaventata. Dopo vari tentativi era riuscita a raccogliere le sue confidenze. La bambina le avrebbe detto di essere stata vittima da parte del nonno materno di abusi sessuali fin dall'età di 6 anni. La procura, con la collaborazione di una psicologa del consultorio e delle forze dell'ordine, ha poi acquisito elementi utili a ricostruire la storia. Il nonno, complice l'inerzia della figlia, avrebbe in più circostanze sottoposto la giovane a innaturale attenzioni e molestie, elementi ritenuti sufficienti per far scattare gli arresti. Per il momento la bambina è stata affidata alla nonna paterna.